Sono qui con Leonardo De Gerone, allenatore del Diadema Roller di Bassano. Ciao Leonardo, che partita hai visto oggi? Buonasera a tutti intanto. Avevamo partiti anche bene, secondo me. Avevamo tenuto i primi 6-7 minuti. Penso che abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco su una pista comunque ostica perché abbiamo visto che stanno iniziando a far fatica un po' tutti questa pista. Probabilmente il mister sta colmando il ritardo nell'arrivo che ha visto e sta iniziando a mettere giù la squadra bene. Poi questa pista è sempre comunque pericolosa e difficile. Dopo abbiamo iniziato a perdere, secondo me, la testa. Abbiamo iniziato a pensare troppo a altri fattori che non dovrebbero influenzare la partita. Abbiamo perso un po' il pallino del gioco e Montecchio è stato bravo a sfruttare le sue occasioni che, a contrario nostro, ci siamo fatti nervosire dal clima e da altre cose. A un certo punto ho visto nel primo tempo, hai messo dentro i senatori, insomma dopo aver fatto giocare Reniero, Geremia. Abbiamo visto anche Antonio Biasini che è un talento cristallino del roller che ha esordito. L'assenza di Mattia Tottene si è fatta sentire o comunque tu sei sicuro e conscio di avere una formazione che può durare la sua in ogni partita? Sicuramente non posso lamentarmi del roster che ho. Abbiamo una decina di ragazzi che si allenano quotidianamente con noi e, diciamo, non posso dire che non ci sono differenze. Però sono tutte gente che sta dimostrando di poter tenere la pista. È ovvio che l'assenza di Mattia comunque è sempre molto importante perché è un giocatore che ha degli spunti individuali molto pericolosi. Se lo ricordano bene qua a Montecchio l'anno scorso perché ha fatto quattro gol nella partita di Coppa Italia. Ecco, esatto. Sicuramente Mattia ti crea anche una soluzione da solo e su un punto piste come questa, che come dicevo sono molto difficili, un fantasista solitario poteva sicuramente una mano. Fate l'idea, sulle partite più d'oste ci succede sempre qualcosa in settimana. Però comunque non deve essere una giustificazione, potevamo senza di lui lo stesso gestire un po' meglio la partita e fare qualcosa di meglio. Comunque onore a Montecchio per la partita. Ecco, allora in proiezione del campionato Leonardo, insomma abbiamo visto un Bassano che è abbastanza volatile, ha vinto partite importanti, anche la prima contro Montecchio, poi ha stravinto con Trissino. Ha avuto una preoccupante battuta d'arresto con Breganzi in casa, poi un 3-3 con Valdagno. Avete stravinto con Tiene, che adesso è primo in classifica. Parliamo già del campionato, visto che comunque la Coppa Italia per la A2 è un po' un proemio, un po' un'introduzione della stagione. Che campionato vedremo con Bassano? Beh, guarda, scusami, ma una parentesi sulla Coppa Italia la voglio fare. Comunque è vero, c'è stata Breganze e anche queste sono state due battute d'arresto, soprattutto causate da nostri errori, secondo me. e vogliamo comunque adesso andare fino alla fine e qualificarci perché per noi è un buon obiettivo. Per quanto riguarda il campionato, noi è risaputo. Vogliamo in primis, come obiettivo, raggiungere una salvezza tranquilla. Come ho dichiarato inizio anno, nel campionato dove raggiunta la salvezza possiamo un attimo tirare il fiato, ho il piacere di riuscire a fare giocare un qualche minuto in più Regnero e Biasini che sono già integrati totalmente in squadra e anche altri nostri ragazzi giovani che si stanno integrando bene nel gruppo in settimana e dalle anche un po' più di spazio. Dopo quello che viene, viene, vediamo, però senza pressioni. Assolutamente, anche perché appunto l'anno scorso, insomma, adesso dobbiamo fare un parallelismo. Bassano, come hai ricordato te, è andato alle finali di Forte di Marmi, di Coppa Italia. Ha detto la sua comunque in campionato, quindi, insomma, Bassano è sempre una piazza molto viva e molto presente. Leonardo, io ti ringrazio. Grazie a te. Buona serata, grazie.